Nastro riavvolto allo scorso 12 marzo. Bartoccini, fortempissi Perugia, supera 3-1 il Bisonte Firenze grazie a una prestazione sontuosa e mette 5 punti di vantaggio su Washford Green Pinerolo, penultima in classifica e dunque sulla zona retrocessione, quando mancano 4 turni al termine della stagione regolare di A1 femminile di volley. Uno scenario che poteva definirsi ideale al fine di raggiungere per la quarta volta consecutiva l'obiettivo principe societario, ovvero la permanenza nella massima categoria pallavolistica nazionale. Uno scenario che è stato però completamente rovesciato di fatto in meno di un mese con un crollo verticale che ha visto Bartoccini, fortempissi, perdere gare in serie e racimolare un solo punto mentre Pinerolo ha inanellato 3 successi in fila con 8 punti in cascina che sono valsi il sorpasso sul più 2 e classifica Vulsa favore all'alba dell'ultimo turno. Un'ultima giornata in cui Bartoccini, fortempissi, oltre a sperare in una vittoria di Chieri nel derby piemontese che poi è puntualmente avvenuta, doveva necessariamente vincere da tre punti al cospetto della super corazzata Conegliano, già certa del primo posto in campionato. Le Pantere però hanno giocato da Pantere, conquistando l'intera posta in palio con un secco 0-3 e condannando così Perugia alla retrocessione in A2 con il coach di Moco Daniele Santarelli, folignate Doc, che non avrebbe mai voluto essere il boia dell'unica squadra che fino ad oggi rappresentava l'Umbria nell'elite pallavolistica tricolore. Non era il finale che volevo, perché ovviamente tornando qui a casa dopo tanto tempo avrei avuto piacere di riabbracciare le persone che conosco e di poter proseguire. La possibilità di tornare qui a casa è sempre ridotta, quindi era questo club, secondo me era una chance importante, avevano una chance importante e per me era un'occasione per tornare a casa. Non era il finale che avrei voluto, però noi dovevamo pensare a noi stessi. Ovviamente non è stata la sconfitta con Conegliano a portare Bartoccini Fortinfissi nel baratro. Il progetto condiviso da società e staff tecnico guidato da coach Bertini era quello di ottenere la salvezza con un organico estremamente giovane, con due 2002 Noa Calore Armini e una 2003 Gardini, spesso assieme nel sestetto tipo, assieme a ruchi assolute per la Serie A, come la coppia diagonale formata dalle statunitensi di Ilfer e Samedi, ambe due poi cedute in corso d'opera. Sì, perché i soli sette punti racimolati dopo il girone d'andata e nove sconfitte in serie tra novembre e gennaio hanno fatto propendere la società a investire nei ruoli di alzatore opposto, inserendo elementi di esperienza come Santos e Galkowska, zopperendo al centro all'infortunio di Bartolini con la transalpina Garzia. Una crescita sia dal punto di vista tecnico che caratteriale c'è stata, ma non è bastata a causa di troppe occasioni perse, soprattutto negli scontri diretti con Pinerolo, con gara d'andata vinta solo al Typewreck dopo essere stata avanti 2-0 e ritorno perso 3-1 in terra piemontese, ma anche con la stessa macerata che ha chiuso in ultima piazza, con sconfitta per 3-1 alla seconda giornata nelle Marche e gara di ritorno vinta anche qui solo al quinto set dopo aver conquistato i primi due parziali. Così, in termini strettamente matematici, sono arrivati appena 4 punti sui 12 disponibili negli scontri salvezza, ma sarebbero comunque probabilmente bastati se alla terz'ultima giornata fossero arrivati 3 punti dalla gara casalinga al cospetto di una ballefoglia già salva e che invece ha spugnato 3-2 il Palabarton nella giornata in cui Pinerolo, con una rimonta pazzesca dallo 0-2, abbattuta al Typewreck macerata tornando a meno uno dalle Perugine, poi sorpassate proprio sulla linea del traguardo. In mezzo ci sono stati tanti infortuni, in primis quello che ha attanagliato la stagione di capitana Anastasia Guerra, fattore che oltre alla suddetta inesperienza non ha consentito alle Perugine di riuscire a trovare continuità di prestazioni e risultati all'interno dell'interannata. Un contesto che ha portato alla retrocessione in A2, con la società perugina chiamata ora a riorganizzarsi per provare ad aprire sin da subito un nuovo ciclo con ambizioni, idee e progettualità che possa riportare Bartoccini forti infissi nel gota del volle nazionale.